Ecco si parte per l'altro aspetto di San Buceto, dei giovanissimi, stanno tutti gassati i nostri ragazzi, tutti indivisi. Oggi è venuto a scuola, è venuto a scuola ha detto, no però mi chiede. Con il pulmino della ditta Blitz, avuto non legge di Valentino Iocco, non c'è. La febbre, la febbre. Beh, vedi che c'è la febbre non perde. La porca. Giocarlo, oggi andremo a vincere.